Siamo a Billa Fernandez con Michele Ruocoschev. Abbiamo da poco finito di ascoltare la presentazione del libro a quattro mani con Tonino Scala, Ricette e Morali, nelle quali diciamo che Tonino e Michele hanno ruoli completamente diversi, ma un unico obiettivo che è un obiettivo solidale. Illustraci un po' questo tipo di discorso e poi andiamo più nello specifico nella cucina. L'obiettivo solidale appunto nasce proprio da un'esigenza, esigenza di non rimanere in silenzio rispetto a certi fatti e di a modo nostro contribuire a un'idea, a un progetto. Il progetto che abbiamo abbracciato e che sosteniamo diciamo così con il libro è questo progetto di Marco Rodari, il Pimpa che è un ragazzo come noi, insomma il nostro coetaneo, che ha deciso di vestirsi di questo naso rosso e provare a portare il sorriso, la meraviglia nei luoghi di guerra ai bambini della guerra. Pure perché secondo Marco e secondo noi anche l'unica cosa che noi possiamo portare ai bambini e che gli resta e che può dare la speranza a questi bambini di crescere come persone normali è il ricordo di un sorriso. Se un bambino non sorride è destinato a diventare un terrorista. Un bambino palestinese che è nato e cresciuto sotto le bombe senza aver mai avuto l'idea di un sorriso o di un gioco o di una cosa è per forza di cose destinato a diventare un terrorista. Portare un sorriso a questi bambini significa gettare un tema di speranza. E questo è quello che noi vogliamo fare con questo libro. La cucina, cosa c'entra? È uno dei temi del libro perché si parla di pace e quindi non di guerra ma anche della possibilità di offrire un'alimentazione in luoghi dove effettivamente a causa della guerra è difficile procurarsi il cibo e quindi subentra Michele Rocco che come dicevamo precedentemente è un cuoco professionista e si è un po' inventato qualcosa che però già esisteva rivisitandola. Infatti stasera nella sala accanto ci sono le persone, tantissime persone che sono intervenute che stanno degustando tutte le tue invenzioni con elementi poveri. Anche qui ti lascio la parola e industaci tu come è nato in te questo desiderio, questa volontà che poi è diventata azione concreta e poi di te c'è anche qualche segreto. Prima parlavamo di broccoli, potremmo parlare di tante altre cose. Beh diciamo che più che essere una volontà è stata una necessità. La necessità per rendere concreta poi la nostra azione di solidarietà è chiaramente uno mette in campo le proprie esperienze, le proprie competenze. Tonino mette in campo le sue da bravo scrittore, da oratore. Io so cucinare poco, parlare ma insomma sono più un uomo dei fatti. Io mettetemi a fare delle cose riesco in qualche modo a farle. Se le devo spiegare vado un poco più in difficoltà. Ma il cibo è complicazione. Però voglio dire, ci provo e ci riesco. Quindi nasce da questo, nasce da questa cosa e nasce anche da un'esigenza mia personale. Un vecchio sogno nel cassetto di scrivere un libro dove potessi raccontare me stesso in un linguaggio diverso. Dove poter mettere, che ne so, la mia esperienza da cuoco, anche al servizio di quelli che sono un po' dei ricordi di famiglia. Per non lasciare per tutti, anche per gli inviti, anche per quelli che, i racconti che a me faceva mio nonno, che facevano i miei genitori, che sono genitori nati negli anni 30, quindi hanno vissuto la guerra da ragazzi, da bambini. E quindi certi fatti loro li hanno vissuti sulla propria pelle e li hanno trasmesse a noi figli, insomma, nel modo, insomma. E quindi il ricordare, per ricordare i nonni, per ricordare i genitori, quale modo migliore? Nel mio caso, se non attraverso, insomma, la cucina, attraverso dei sapori che quando tu ti metti a tavola, ecco, ci sono dei piatti che ti fanno ritornare alla mente dei momenti vissuti in famiglia. E tra questi, ecco, quello del pane di ghiante, che è una delle ricette che sono nel libro. No, il pane di ghiante, mia nonna si è trovata con questo marito, è tornata tutta ciaccata da questa spedizione che doveva essere risolutiva per la famiglia perché doveva portare qualcosa a casa o da mangiare o da vendere, da fare in modo per poter tirare avanti. Pensate che i miei nonni vivevano a Ercolano, vicino agli scavi. Durante i bombardamenti andavano a rifugiarsi negli scavi di Ercolano. Era gente che non aveva mezzi, non aveva. E quindi porta questa farina e la nonna si mette un po' la fa, ci ha provato a fare il caffè, ci ha provato a fare i dolci, ci ha provato a fare delle cose. Anche là è un fatto di sperimentazione, cioè loro hanno mangiato questa farina di ghiante in assoluto, mischiata con l'acqua per farci il pane e chiaramente la farina di ghiante è astringente come prodotto. E quindi ci ha creato tutta una serie di altri problemi. Che poi tu hai detto che effettivamente oggi come oggi la farina di ghiante è carissima. Se tu vuoi comprare la farina di ghiante è qualcosa di introvabile. Però hai trovato il modo, hai raccolto le ghiante. Ho raccolto le ghiante e ho provato a fare io la farina di ghiante. E' un procedimento lunghissimo, molto elaborato, che richiede non tanto un'esperienza, ma richiede del tempo. Cioè tu devi andare già a raccogliere le ghiante in un posto. E' già questo, diciamo. E' impegnativo. E' impegnativo. Poi le devi mettere al sole, devi mettere in acqua, poi devi fare due o tre giorni di passaggi tra l'acqua e il sole, in modo da asciugarsi eccetera eccetera. Poi vanno frullate, insomma. E' un procedimento un po' elaborato, che racconto molto bene i libri, dettagliatamente, anche con delle percentuali. Quindi volendo si può fare. Si può realizzare. Si può fare. I broccoli, il tutto che lo buttiamo dei broccoli. Quando tu compri i broccoli, compri una cassa di broccoli, vai al fruttarolo e compri un chilo di broccoli. Di quel chilo di broccoli, se in padella riesci a mettere su 200-250 crani, è grasso che cuore. Il resto va tutto nello spazzatore. A me questa cosa, chiaramente, ha sempre dato fastidio. E' come operatore del settore, ma proprio come persona. Sono uno che non sono un avaro, non sono un ticchio, ma sono uno parsimonioso. Non mi piace buttare le cose, mi piace insomma comunque sfruttare al massimo quello che ho. E quindi mi sono inventato questa ricetta, che praticamente prevede di prendere i gambi dei broccoli. Chiaramente nei gambi un po' più legnosi, più così vanno un po'... Vanno iscosi comunque. No, va tolta il filamento esterno, no? È questo, io già l'ho buttata, invece, pure quello si può recuperare. No, quello va tolto con un pello a patate, così si toglie un po' questo filamento esterno. Poi va tutto messo in un frullatore, non il mini pinner, proprio un tritatutto, praticamente, con dell'olio, delle noci, o se hai le nocciole, se non hai le noci o le nocciole, c'hai le arachidi, va bene lo stesso. Uno spicchietto d'aglio è fatto frullare a intermittenza, in maniera da non riscaldarlo, da non cuocerlo. Quindi o ci puoi aggiungere dei cubetti di ghiaccio dentro alla cosa, in modo che mantenga un po' in più la temperatura, frullato e messo in frigorifero. Messo così, coperto con l'olio, si mantiene pure una settimana, dieci giorni in frigorifero. Altrimenti, nei bicchierini di plastica messi nel congelatore, pure sei mesi, stanno là. All'occorrenza, uno lo tira fuori, ci può condire una pasta, ci puoi fare una bruschetta, o che ne so... Accompagnare anche un secondo, non è? Puoi accompagnarci un secondo, ci puoi fare il gatto di patate, invece di metterci, io ci metto un po' di quello dentro. Forno con la provola e viene bene lo stesso. Voglio chiederti un'altra cosa che mi ha molto colpito durante la presentazione. Tu hai detto che il passaggio che proprio non ti va giù è quello del cibo, o meglio, dello scarto, che poi non è scarto, della spazzatura. Com'è che tu hai questa attenzione? Perché sì, l'hai raccontato, hai ascoltato i discorsi dei tuoi genitori, che vivono in una situazione sicuramente diversa, tanti dai nostri genitori, nonni, la noi sopra, però sicuramente è un'attenzione particolare. È forse il tuo rapporto con il cibo, che è un rapporto di grande attenzione, se così possiamo dire. Sì, sicuramente. A parte i nonni che mi raccontavano che ai tempi della guerra c'era gente che andava a rovistare nei bidoni della spazzatura per una patata marcia o... e quello era commestibile. Quindi era una cosa che mi ha sempre incuriosito. Da giovane, da adulto, ho girato parecchio, ho viaggiato anche abbastanza, sono stato in parecchio città europee e soprattutto nelle grandi capitali europee, dove noi magari andiamo per vacanza, per turismo, se vai nelle zone di mercato, per esempio, c'è una marea di gente, di povero, che va a rovistare nei bidoni della spazzatura per cercare di trovare qualcosa da mangiare. Oggi lo vediamo pure a Napoli, cosa che io a Napoli non mi sarei mai sognato di vedere. Però purtroppo, lo vediamo pure da noi, nelle nostre città, di notte o comunque, insomma, negli orari dove c'è meno persone, se ci fai casa, vicino ad un bidone della spazzatura, ci sta sempre qualcuno che va rovistando, c'è sempre qualcuno che va cercando qualcosa. E la maggior parte delle volte va cercando qualcosa da mangiare, qualcosa di commesso. Questo, legato a una grossa attenzione rispetto al cibo, una grande passione per la cucina, io non sono un cuoco che nasco come cuoco, non ho fatto l'istituto alberghiero, io ho studiato da geologo, ho fatto il falegname per quasi vent'anni della mia vita, a un certo punto ho dovuto fare le tre scelte e ho deciso di cambiare vita. Ho deciso di cambiare vita e quindi mi sono inventato un po', tra virgolette, perché ho sempre cucinato per gli amici, a casa, non avevo mai cucinato in un contesto professionistico, diciamo. Ma la cucina è passione. Però era un qualche cosa che mi veniva da dentro, quindi poi ho iniziato, ho fatto la cavetta, ho iniziato nei ristoranti a fare il lavapiatt, a lavare i tegami, a fare l'aiuto cuoco. La prima volta che mi hanno concesso di aiutare il cuoco a mettere la pasta in un piatto, per me è stata una conquista, è stata una... E avevo già 40 anni, voglio dire, non è che ero un ragazzino, ero un uomo formato, con già una sua... E poi penso che io a 50 anni ho deciso di iscrivermi all'alberghiero e prendermi il diploma da cuoco. E quindi adesso, diciamo, sono un vero cuoco a tutti gli effetti, una storia davvero interessante e particolare la tua. Pensa che i grandi chef, i grandi chef sellati, dicono proprio questo, qualcuno mi è capitato di seguirlo, che i bravi cuochi sono quelli che partono dal basso, quelli che partono dalla cavetta vera e propria, perché è lì che impari e poi serve quel passaggio. Ricordiamo l'ultima cosa, non ti voglio trattenere ulteriormente, il ricavato del libro è devoluto, sarà devoluto in beneficenza, per le iniziative che all'inizio della nostra intervista tu mi hai ricordato, quindi il Pimpa, che è Marco Rodali, questo giovane che subito ha mostrato l'interesse, si è trovato in questa situazione, visto questi bambini, e quindi tutto è regalato del libro, del vostro libro. Interamente andrà a questa associazione. Però è interessantissimo leggerlo, perché possiamo ritrovare anche parte della nostra storia. Beh, sicuramente, è un libro che, la nostra storia è raccontata in cucina, raccontata nei piatti. Ti voglio fare un'ultima domanda, hai detto che hai girato, Qual è il popolo, secondo te, che produce più scarto? In base alla tua esperienza, più scarto? Secondo quello che è stato il tuo osservatorio? Ma, diciamo che a livello professionale, il mio osservatorio è limitato, perché ho lavorato quasi sempre in Italia. Ho lavorato per un periodo nei paesi dell'est, e posso dire che siamo noi italiani che produciamo più scarto. Cioè, il problema ce l'abbiamo molto noi italiani. Ho lavorato in Svizzera, per esempio, e lì, nonostante siano ricchi, quindi nonostante ci sia un'opulenza, un benessere, c'è molta più attenzione rispetto a quella che abbiamo noi. Ho trovato una produzione di scarti maggiore nelle trattorie di Pondicello, piuttosto che nel ristorante di Bratislavo, per esempio. Lui ho lavorato per diverso tempo. Grazie a te. Grazie, Michele Ruocco. Grazie a te.